L'omicidio seriale, come spiega bene il criminologo Ruben De Luca, esiste fin dalla preistoria, ma i serial killer, definiti come tali, esistono da meno di 50 anni e sono entrati nell'immaginario collettivo grazie a filmografie e personaggi di fantasia. Percorreremo insieme un breve viaggio psicologico per analizzare a grandi linee tutte le tipologie di serial killer catalogati. Vi aspetto qui a Omicida Seriale.